Zuccherificio operai vogliono risposte urgenti. Una delegazione ha incontrato in comune il sindaco di Termoli. La situazione è drammatica per 70 lavoratori. C'è l'ipotesi area di crisi ma serve l'impegno della regione per il ricollocamento. Tedeschi e da Pollonio si rispettino i patti. Il consigliere ha scritto al sindaco di Sernia chiedendo di dare seguito a quanto stabilito prima delle elezioni e il riconoscimento del suo ruolo politico. Scuole sicure e la guardia resta alta. A Campobasso il sindaco ha incontrato il prefetto per affrontare il caso della Don Milani. L'amministrazione affiderà all'unimo l'uno studio sulle condizioni dell'edificio. Intanto interpellanza dei 5 Stelle. Truffi anziani come evitare i raggiri. L'associazione Ollus Legginestre di Sernia ha organizzato un incontro informativo con il personale della polizia che ha illustrato i pericoli e dato consigli alle potenziali vittime. Serie D. Gare in casa per Campobasso e Agnone. Nella sesta giornata di campionato i Rosso-Blu ospitano alla Selvapiana l'Alfonsine. Gli altomolisani se la vedranno al Civitelle con il Chiedi. 14,2 minuti. Buongiorno dalla telegiornale di Telemolise. Dunque, lo avete sentito nei titoli, la situazione è drammatica per 70 lavoratori dello zuccherificio di Termoli e chiaramente per le loro famiglie. Una delegazione ha raggiunto il corteo, il municipio, per chiedere attenzione e risposte al sindaco Angelo Sbrocca. Si valuta l'ipotesi dell'area di crisi, ma serve un concreto impegno della regione per favorire il ricollocamento dei lavoratori. Il servizio di Fabrizio Occhionero. Solidarietà ai lavoratori dello zuccherificio è arrivata anche da parte degli studenti delle scuole superiori della città. Ognuno di voi hanno affermato alcuni di loro davanti al municipio potrebbe essere uno dei nostri padri e vogliamo esservi vicini. Per i dipendenti riuniti in presidio da quasi due settimane, un'attesa che coinvolge 70 famiglie e la necessità di trovare soluzioni adeguate diverse dalla mobilità. Lo hanno ribadito durante l'incontro che si è svolto dopo una marcia simbolica a Palazzo Sant'Antonio, sede del Consiglio Comunale. La delegazione di lavoratori ha incontrato il sindaco Angelo Sbrocca e gli amministratori in sala giunta per chiedere il massimo impegno e individuare una possibile soluzione per il futuro, sollecitando la regione. Un contesto non semplice e ancora avvolto dall'incertezza. Siamo piompati nel comune proprio per cercare di muovere un po' le acque. Abbiamo chiesto solamente maggior impegno da parte della giunta comunale perché comunque lo zuccherificio faceva parte del territorio di Termoli e un'azienda storica. Ha chiuso questa azienda e noi ci siamo sentiti un po' abbandonati. Abbiamo chiesto maggior impegno da parte loro per una pressione a livello politico regionale in modo che riusciamo a trovare delle soluzioni a questa situazione per la ricollocazione dei dipendenti. Una situazione drammatica che richiede un impegno comune evitando di creare solo delle aspettative tra i lavoratori che dopo tanti anni e le ultime vicissitudini si ritrovano appesi a un filo di speranza. Abbiamo dato delle risposte concrete perché non ci piace illudere persone che già vivono un dramma e un dramma del lavoro molto grande e quindi abbiamo detto quella che è la strategia che bisogna adottare soprattutto in relazione alla possibilità che l'area di crisi non complessa ci ha dato e valutare insieme alla regione perché il comune purtroppo non ha delle proprie competenze in merito insieme alla regione ed altre istituzioni come poter accompagnare questi lavoratori ad un ricollocamento e quindi non far sentire loro il peso di una eventuale mobilità. Questo l'auspicio di Sbrocca. Noi vogliamo che questi lavoratori rimangono nel Molise, rimangono nel basso Molise a Termoli e quindi noi per quelle che sono le nostre competenze, io come sindaco ma tutta l'amministrazione faremo di tutto per poter agevolare questa ricollocazione dei lavoratori, soprattutto per far atterrare delle nuove unità produttive nel nostro consorzio e dar un fattivo aiuto concreto per questi lavoratori che in questo momento ovviamente non hanno il proprio lavoro. Intanto ultime ore per presentare le manifestazioni di interesse ad investire nell'area di crisi industriale complessa. Il termine dopo la proroga di dieci giorni decisa alla fine di settembre scade lunedì 10 ottobre a mezzogiorno. L'invito è stato lanciato il 4 agosto da Invitalia con l'obiettivo di identificare i fai bisogni di sviluppo dell'area e adeguare gli strumenti agevolativi che saranno attivati sul territorio. La col ha dunque una finalità meramente conoscitiva e non dà luogo a titoli di preferenza o diritti. Cambiamo argomento, il tracollo al 32% di credimento è la naturale conseguenza del suo fallimento e del baratro in cui in soli tre anni ha portato il Molise. Così il senatore molisano Ulisse Di Giacomo commenta l'esito del sondaggio Index sul gradimento dei governatori che vede il presidente molisano Paolo Frattura al penultimo posto. Una sanità che non garantisce neanche Ilea, aggiunge il parlamentare, con ingenti risorse trasferite dalle strutture pubbliche a quelle private. Una disoccupazione dilagante che ha spinto nel 2015 quasi milla giovani ad emigrare per trovare un lavoro. E' ancora una economia distrutta con la chiusura delle poche aziende esistenti. Una questione morale che, dice ancora Di Giacomo, diventa ogni giorno più imbarazzante tra l'indifferenza e l'immobilismo di chi dovrebbe vigilare. Questo conclude Eil Molise oggi per colpa di un personaggio inadeguato e sproveduto. Cosmo Tedeschi ha rotto il silenzio. L'ex candidato sindaco al Comune di Sernia ha scritto una lettera aperta a Giacomo D'Apollonio chiedendo il rispetto dei patti preelettorali e con essi il giusto riconoscimento del suo ruolo politico. Il servizio di Enzo Di Gaetano. Comune di Sernia, eletti presidenti di due commissioni al vertice della commissione assetto del territorio, è stato eletto Gianni Fantozzi della maggioranza, espressione di insieme per il Molise di Micheleorio. Anche alla presidenza della commissione cultura, un'altra espressione della maggioranza è di insieme per il Molise. La giovane consigliera Elisabetta Lancellotta. Intanto Cosmo Tedeschi, l'ex candidato sindaco di Sernia, che al ballottaggio aveva dichiarato il suo pieno appoggio a Giacomo D'Apollonio, ha lanciato un ultimatum all'ex generale chiedendo il riconoscimento del suo ruolo politico. Io fino adesso ho voluto attendere, quindi in silenzio stiamo aspettando per stare vicino all'amministrazione per non creare problemi a nessuno. Non vogliamo creare problemi a nessuno, ma è normale che la gente che insieme a noi ha deciso al ballottaggio con molta chiarezza di appoggiare il sindaco D'Apollonio, ad oggi si aspetta una partecipazione concreta, cioè un ruolo concreto che queste persone, che il gruppo che ha preso 1800 voti deve avere e penso che sia giusto. Quindi aspettiamo questa collaborazione reale in amministrazione. Tedeschi, però, le chiedono in Consiglio Comunale di fare un'adesione alla maggioranza. La farà questa adesione? Il discorso di fare una dichiarazione, se appartiene alla maggioranza o alla minoranza, l'abbiamo già detto, è chiarissimo. Nel momento in cui il nostro gruppo, apertamente, appoggiato da Pollonio, è normale che il gruppo che ha preso 1800 voti sta in maggioranza. Nel momento in cui loro vogliono creare delle difficoltà o qualcuno vuole creare delle difficoltà, allora è bene che lo dica alla gente che ha votato, chiaramente, in modo tale che si mettono in chiaro delle cose. Ma io dico, Isernia non ha bisogno di liti. I patti vanno rispettati, gli accordi vanno rispettati, si fa un programma condiviso, si va avanti e si portano i risultati alla città. La città vuole risultati concreti. Quanto tempo da Pollonio? Ma non è una questione di tempo. Io dico, Isernia non ha bisogno di liti. Isernia ha bisogno di risultati concreti. Diamo la piscina subito che avevamo detto di dare alla gente. E purtroppo ad oggi ancora non abbiamo trovato una soluzione. L'Andrea di Isernia è una scuola che non è sicura, quindi dobbiamo dare ai ragazzi una scuola sicura. E Isernia ha il dovere, quindi ci vuole una responsabilità seria di chi amministra. Se fossi stato io ad avere queste responsabilità, la gente mi conosce, mi pigliava la responsabilità, anche l'Andrea di Isernia andava in scuole sicure, la piscina io l'avrei riaperta in tre mesi. Quindi fare i lavori minimali, ecco su questo aspetto, lavori minimali subito alla piscina e riaprirla in due mesi. Dopo gli ampliamenti, l'alzamento della vasca, tutti altri lavori o con il project financing che vogliono fare, va fatto in tre anni, cioè ci vogliono tre anni per fare queste cose. Quindi non puoi aspettare tre anni per aprire la piscina. Si parla di scuole sicure a Isernia, intanto la sicurezza degli edifici scolastici resta in primo piano anche a Campobasso. Ieri il sindaco Battista ha incontrato il prefetto di Menna per affrontare il caso della primaria Don Milani di Via Leopardi. L'amministrazione commissionerà uno studio all'Università del Molise per accertare le condizioni dell'edificio. Ce ne parla in questo servizio Anna Maria Di Matteo. È durato meno di un'ora il faccia a faccia tra il prefetto di Menna e il sindaco di Campobasso Battista. Al centro del colloquio la situazione della scuola primaria Don Milani di Via Leopardi. Era stato il rappresentante del governo a convocare il sindaco dopo essere stato investito del problema da una delegazione dei genitori dei piccoli alunni per fare il punto della situazione e cercare di capire come stiano realmente le cose perché le famiglie sollecitano l'amministrazione a fornire chiarimenti sul reale stato dell'edificio. Dalla documentazione ottenuta dai genitori dietro formale richiesta di accesso agli atti sarebbe emersa la non sufficiente idoneità sismica della struttura sulla quale due anni fa erano stati eseguiti interventi di miglioramento sismico, interventi realizzati solo su un terzo del plesso, quello che ospita la materna, lavori che sempre, secondo il carteggio ottenuto dalle famiglie dei bambini, non garantirebbero la sicurezza dell'intero stabile. La posizione dell'amministrazione è cauta. C'è chi pensa ci sia una analogia tra i casi di Via Crispi, Via D'Amato e la Don Milani. In realtà non è così, ha dichiarato il sindaco Battista. Per le due scuole attualmente chiuse la perizia dei tecnici indicava la vita residua degli edifici. Per la scuola di Via Leopardi no, il che potrebbe voler dire che la situazione non è grave come potrebbe sembrare. Comunque, per sgombrare il campo da dubbi e soprattutto da timori, nei prossimi giorni l'amministrazione commissionerà all'Università del Molise uno studio per accertare il grado di vulnerabilità sismica della scuola, oltre alla vita residua. I tempi saranno rapidissimi, solo allora, ha proseguito il sindaco, in base a quello che verrà fuori dalle perizie, decideremo come muoversi, ma fino ad allora sarebbe opportuno evitare pericolosi allarmismi. Ha chiuso Battista. A questo punto i genitori degli oltre 500 alunni resta che attendere l'esito delle verifiche e che, stando a quanto dichiarato dal primo cittadino, non tarderà ad arrivare. Dopo Via Crispi e Via D'Amato, ora sul tavolo del sindaco Battista, arriva anche il caso di Via Leopardi. E la cosa non stupisce più di tanto, visto che sono pochissime le scuole sicure a Campobasso. Una situazione con la quale la popolazione scolastica convive da sempre. Ma ora è arrivato il momento di voltare pagine e puntare sui poli didattici senza perdere altro tempo. Intanto su questa vicenda il consigliere comunale di Campobasso del Movimento 5 Stelle, Roberto Gravina, ha presentato un'interpellanza affinché il sindaco e l'assessore riferiscano in aula sul caso. Gravina ha ripercorso le tappe della vicenda ricordando che nel 2013 era stato approvato il progetto preliminare per l'adeguamento dell'edificio per 1.360.000 euro. La delibera, ha precisato il consigliere, indicava tra le seome disponibili circa 361.000 euro utilizzati per l'adeguamento sismico di una porzione della struttura. Tuttavia, ha proseguito, l'intervento non risulta più inserito nella programmazione triennale dei lavori pubblici, lasciando intendere che non è interesse dell'amministrazione completare i lavori. L'edificio quindi può considerarsi vulnerabile sismicamente nelle parti non interessate dagli interventi, ha concluso Gravina, che ha chiesto al sindaco e all'assessore competente di spiegare le ragioni di questa scelta e soprattutto di conoscere come intendano muoversi per garantire la sicurezza ai 600 piccoli alunni. Il capogruppo del PD alla Camera, Ettore Rosato, è intervenuto a Venafro in un incontro per illustrare le ragioni del sì al referendum del 4 dicembre. Sentiamo Sergio Di Vincenzo. Docenti universitari, avvocati, politici, cittadini, in tanti hanno dato il proprio contributo al dibattito di scena a Venafro sulla riforma costituzionale e sui motivi che hanno spinto il legislatore a cambiare alcuni punti della legge fondamentale dello Stato. L'incontro è stato organizzato dal Comitato Pentro per il Sì, presieduto da Antonio Tedeschi, che ha affidato a Ettore Rosato, capogruppo del Partito Democratico, alla Camera dei Deputati, il compito di illustrare le ragioni del sì al prossimo referendum. Perché è una grande occasione per il nostro Paese. Finalmente, dopo 30 anni di promesse, riusciamo a riformare le nostre istituzioni, istituzioni più semplici, più efficaci, più capaci di rispondere ai problemi, meno costose. Insomma, quello che abbiamo sempre promesso, adesso ci riusciamo a realizzarlo. Rosato si è soffermato anche sulle polemiche e il conseguente ricorso al TAR causato dal testo del quesito referendario. Secondo i ricorrenti, se non è uno spot a favore del Sì, rappresenta perlomeno un ottimo assist, di quelli che basta toccare la palla per fare gol. Più che un assist al Sì è la descrizione di quello che c'è nella riforma. Poi può piacere o no, ma la riduzione dei parlamentari, la fine del bicameralismo, un nuovo rapporto tra Stato e Regioni, nuove norme che aiutano i cittadini nel referendum e sulle proposte di iniziative popolari è esattamente quello che c'è contenuto. Poi, legittimamente, chi vota no o chi sostiene le ragioni del no, non gli piacciono queste cose. Ma la descrizione è esatta. Poi non lo ha scelto il Governo. È la legge che prevede che sia così. Il capogruppo del PD alla Camera si è detto naturalmente fiducioso sull'esito della consultazione e non teme che la prossima chiamata alle urne possa trasformarsi in un referendum pro o contro il Governo Renzi. Io penso che gli italiani siano sufficientemente saggi da esaminare il contenuto della riforma, almeno le grandi linee generali, e decidere in base a quello, non tanto se Renzi è simpatico o no, perché Renzi passerà, la Costituzione resta. Truffe agli anziani. Il tema è di grande attualità e ogni giorno arrivano notizie di persone raggirate e derubate inconsapevolmente. Per sensibilizzare le potenziali vittime delle truffe, l'associazione Ollus Legginestre di Sernia ha organizzato un incontro informativo con il personale della Polizia di Stato, Enzo Di Gaetano. Ogni giorno la cronaca ci ricorda che gli anziani restano sempre più spesso vittime di truffe e raggiri consumati abilmente ai loro danni da persone senza scrupoli. Per questo motivo l'associazione Ollus Legginestre di Sernia ha organizzato un incontro con il personale della Polizia di Stato della Questura Pentra che attraverso filmati e consigli pratici ha spiegato agli anziani cosa fare per difendersi dalle truffe. Con la mia associazione ho pensato di aiutare il più possibile queste persone anziane e grazie a questo convegno coinvolgendo le istituzioni e soprattutto la Polizia noi cerchiamo di aiutare queste persone. Più facciamo convegni, più il messaggio passa nelle case degli anziani e abbiamo più probabilità di aiutarli perché poi fondamentalmente sono i nostri genitori, i nostri nonni persone deboli fondamentalmente e vanno in un certo modo aiutati. È un'iniziativa promossa dalla Casa di Riposo Legginestre con la nostra collaborazione e appunto per sensibilizzare, per dare dei consigli utili, pratici alle persone anziane che sono una fascia debole ed è facile approfittare di queste persone e trarle in inganno. Quindi piccoli suggerimenti ma che li possono veramente aiutare nella vita di tutti i giorni facendogli sapere che possono chiamarci sempre e che noi siamo con loro. E che cosa non devono fare gli anziani per evitare di cadere nella trappola dei truffatori? La cosa da non fare è essere soprattutto attenti attenti a determinate situazioni che gli si possono presentare ad esempio non portare mai con sé un certo numero di valute oppure stare attenti se qualcuno li può seguire oppure può chiamare alla porta e ad aprire sconosciuti tante altre cose, ad esempio anche quando sono in strada cercare di non andare mai da soli se si sentono in pericolo chiamare le forze dell'ordine al 112, al 113, al 117 oppure rivolgersi a qualche familiare o se sono in casa rivolgersi anche ai vicini di casa. Frosolone si tinge d'arancione domani in occasione della giornata della bandiera arancione del Touring Club. Il Comune con l'Associazione Molise da Scoprire accoglierà i turisti gratuitamente a partire dalle 10.30 con la visita guidata nel centro storico e al Museo del Costume. Poi sarà possibile assistere alla forgiatura nel pomeriggio nel Museo dei Fertri Taglienti. In chiusura del programma aprirà al pubblico la cassetta del pastore con l'assaggio di prodotti tipici. È stato inaugurato oggi il Cammino dell'Acqua Cerce Maggiore, Castelpetroso. Da stamattina fino a domani i partecipanti attraverseranno il cuore del Matese sull'antico cammino tra Cerce Maggiore, Cerce Piccola, San Giuliano del Sagno, Altilia, Guardia Reggia, Campo Chiaro, San Polo, Matese, Boiano, San Massimo, Cantalupo, Santa Maria del Molise fino al Santuario di Castelpetroso. L'iniziativa pone al centro il concetto di pellegrinaggio all'interno della visione pastorale dell'anno santo, essendo emblema del cammino di ogni uomo nel segno della misericordia. Inoltre, l'idea della regione tra i promotori e organizzatori è recuperare gli antichi cammini e i trattori. Madrina della manifestazione, l'atleta di origini cercesi, Maria Benedicta Chigbolu. E adesso parliamo di sanità. Diagnostica generale incontro a Campobasso tra diversi specialisti nello studio del dottor Adriano Lalli, endocrinologo. Lo ha intervistato Antonio Di Lallo. Dottor Adriano Lalli, titolare dello studio polispecialistico qui a Campobasso in Via dei Amicis, c'è la possibilità presso il suo studio di accedere praticamente a tantissime specialità mediche. Sì, le specialità sono diverse e appunto siccome io sono un medico del territorio, sono un endocrinologo e ho visto che la gente ha varie difficoltà pure nel soffrire di altre specialità. Purtroppo oggi viviamo un periodo molto brutto sia per quanto riguarda le varie attività nel senso che sia negli ospedali che proprio a livello territoriale abbiamo una brutta situazione per il fatto dell'economia, il fatto che non ci sono risorse e quindi si lavora un po' male. E la gente purtroppo è costretta ad andare fuori a curarsi. Qua da noi siamo un gruppo di medici abbastanza preparati, almeno io penso che sia così, e siamo in grado di risolvere i vari problemi senza far andare lontano questi pazienti. Quindi c'è la possibilità di venire presso il suo studio per le più svariate branche della medicina e poi eventualmente sottoporsi a delle visite e decidere anche il percorso diagnostico? Assolutamente sì. Io sono l'endocrinologo e mi interesso di tiroide, diabete, osteoporosi, poi le malattie dell'ipofisi e alcune malattie ginecologiche tipo la sindrome dell'ovaio policistico. Sono affiancato da cardiologi, da ginecologi, otorino, chirurghi, cioè la chirurgia adatto proprio per la tiroide e un altro tipo di chirurgia, chirurgia vascolare, chirurgia estetica. Poi ancora ci sono specialisti tipo nutrizionisti che eseguono anche la tecnica della cavitazione e altre specialità. Una cosa importante che vorrei dire è questo che oltre allo studio medico io ho ricavato pure una sala chirurgica per la piccola chirurgia dove è possibile operare le vene e fare altre cose, operare i nevi e tutte queste cose. Siamo collegati con il reparto di anatomia patologica del Cardarelli quindi possiamo avere tutto in tempi molto brevi. Adesso parliamo di un corso gratuito promosso dalla Croce Rossa per diventare infermiera volontaria del corpo a Campobasso e Isernia. Il servizio è di Valentina Niro. Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione per infermiera volontaria della Croce Rossa italiana presso i comitati di Campobasso e Isernia. Il corso gratuito ha una durata di due anni e prevede la frequenza di lezioni e tirocini professionalizzanti all'interno degli ospedali militari ma anche in quelli civili, in ambulatori e centri assistenziali. Per accedere bisogna avere la cittadinanza italiana, un'età compresa tra i 18 e i 55 anni e il diploma di scuola media superiore. Alla fine del percorso di studi consegue il diploma di infermiera volontaria della Croce Rossa italiana che abilita a prestare servizio di emergenza e assistenza sanitaria con le funzioni e le attività proprie della professione infermieristica. Limitatamente però ai servizi svolti per le Forze Armate per la Croce Rossa italiana come stabilito dalla disciplina del corso di studi. Si tratta di una interessante proposta di formazione, quella che giunge dai comitati di Campobasso a Isernia. Le infermiere volontarie della Croce Rossa italiana assicurano assistenza infermieristica e sociosanitaria con elevata professionalità grazie a conoscenze scientifiche e tecniche attuali necessarie a svolgere le funzioni proprie dell'assistenza infermieristica con una particolare formazione nell'ambito dell'emergenza. Le Croce Rossine, ausiliarie delle Forze Armate prestano assistenza infermieristica nelle missioni umanitarie e di pace sia a livello nazionale che internazionale. Assolvono i propri compiti istituzionali nell'ambito delle attività e funzioni della Croce Rossa, partecipano ai soccorsi in caso di calamità naturali ed altri interventi di emergenza, alle iniziative di educazione sanitaria, assistenza e prevenzione indirizzate alla popolazione, oltre che alla diffusione del diritto internazionale umanitario e dei principi del Movimento Internazionale di Croce Rossa. Per informazioni più dettagliate basta rivolgersi agli spettorati delle infermiere volontarie a Campobasso o a Isernia oppure si può scrivere una mail agli indirizzi isp.campobasso chiocciolaiv.cri.it oppure isp.isernia chiocciolaiv.cri.it Riconoscimento per il Liceo Scientifico Romita di Campobasso che ha ricevuto la medaglia d'oro di Statistica. Marco Ceramella, alunno della Quinta F, ha gareggiato insieme a 1161 studenti di 48 scuole italiane alle Olimpiadi Nazionali di Statistica posizionandosi al primo posto. Domani, accompagnato dalla professoressa Angela Saccone, verrà premiato a Treviso al Festival della Statistica e della Demografia. Ottava edizione della Festa del Mais a Yelzi piatti di cucina molisana e venezuelana durante la prima serata. Stasera l'evento conclusivo a partire dalle 20 in piazza Monumento. Ce ne parla Valeria Farina. Vivere la festa, divertirsi con gli amici riscoprendo il legame con il proprio territorio è l'obiettivo dell'Associazione Meridiana che ha organizzato l'ottava Festa del Mais a Yelzi una a due giorni tutta da gustare. Nella prima serata, pannocchie lesse e le tipiche arepas venezuelane farcite con la carne e accompagnate dalla birra fatta con il mais a gustinello tipico della zona di Yelzi e poi la musica e i balli. Siamo giunti alla ottava edizione della Festa del Mais e questa festa è nata così quasi per gioco fra un gruppo di amici e siamo giunti all'ottava edizione e siamo veramente soddisfatti della partecipazione e dell'importanza che sta avendo questa festa. Lo facciamo perché siamo bene insieme con gli amici della Meridiana ci troviamo bene per cui valorizziamo questa festa e ci divertiamo tutti insieme. Oggi il menù con pizza e minestra con i cicoli di maiale sapori decisi e autentici della tradizione molisana. È un piatto tipico molisano come sapete usiamo la minestra campestre è una minestra che non è che la troviamo nei supermercati è una minestra che noi facciamo prima la troviamo nei campi tutto naturalmente biologico tutto genuino. Durante la festa di stasera il Museo di Comunità della Festa del Grano rimarrà aperto il costo del biglietto d'ingresso al Mufeg sarà devoluto alle popolazioni terremotate del centro Italia. È sempre a Yelzi un programma domani domenica 9 ottobre un pranzo di beneficenza promosso da tutti i comitati festa e le associazioni presenti sul territorio ielsese. L'evento ha uno scopo benefico perché il costo del biglietto sarà devoluto ai terremotati del centro Italia un ricco minù che spazia dalla polenta alla pasta dalla carne allo spiedo ai panini. Il pranzo sarà accompagnato da giochi, musica e altro l'appuntamento dunque è fissato a partire dalle 13 nella tensostruttura in piazza Monumento. Con questa notizia ci fermiamo ci sono le previsioni del tempo poi il telegiornale sportivo l'informazione torna intorno alle 15 grazie per l'attenzione Arrivederci Grazie a tutti i nostri spettatori